Consegnati alla ditta Facciolini i lavori per il ripristino della viabilità sulla strada provinciale 20 nel tratto Pianella, cartiera di Loreto a Brutino. I lavori partiranno ufficialmente giovedì 18 giugno alle ore 12 quando ci sarà l'interdizione al traffico veicolare ciclopedonale per permettere alla ditta di intervenire in maniera sicura sulla frana che dal gennaio 2017 ha creato non poche difficoltà a pendolari e aziende che ogni giorno si spostano dall'area vestina per raggiungere l'area metropolitana di Pescara e Chieti. I lavori ammontano a circa 400 mila euro e andranno avanti per 120 giorni ma l'impresa ha tenuto a precisare che farà di tutto per ripristinare la viabilità in tempi più brevi. Per il periodo interessato dai lavori il traffico ordinario verrà dirottato su arterie comunali e provinciali alternative mentre il traffico ai mezzi pesanti sarà deviato sulla Statale 81. Voi siete testimoni che noi ci siamo visti qua subito dopo la triste notte di Ricopiano appena questo è stato possibile e abbiamo preso atto di questo disastro che ha tagliato in due di fatto l'area vestina. Da l'ora in poi siamo passati dalla fase della protesta dove abbiamo ottenuto dei piccoli interventi per riaprire almeno una corsia ricorderete bene. Poi alla fase di trovare le risorse e abbiamo trovato le risorse. Poi è arrivato un nuovo governo regionale e provinciale che oggi completa un percorso che ahimè è iniziato qualche anno fa e questo è insostenibile per un paese civile perché alle nostre spalle immagino abbiate inquadrate uno splendido padronama, delle splendide colline dove però se non abbiamo strade decenti difficilmente riusciremo a portarci gente e sviluppo. Io mi sento di ringraziare le persone che sono qui oggi perché sono quelle che poi in realtà si sono molto adoperate per raggiungere questo risultato e che sono il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il Presidente della provincia Antonio Zaffiri che davvero hanno mostrato impegno, volontà e determinazione per raggiungere questo risultato atteso e sperato dalla nostra cittadinanza. I nostri tecnici in sinergia con i tecnici della provincia hanno studiato dei percorsi alternativi. Ovviamente dobbiamo essere certi che questi percorsi alternativi consentano un transito in sicurezza a tutte le tipologie di veicoli per cui raccomandiamo alla cittadinanza di seguire tutte le indicazioni sia dal punto di vista dei contenuti dell'ordinanza che della segnaletica che troveranno perché sono finalizzate alla sicurezza di tutti. Quindi è importante che tutti si adeguino alle segnaletiche.